Questo sermone è estremamente importante e riguarda la vita pratica di ognuno di noi. Tu stai sempre bene? Hai sempre pace? Gioia? Pieno di benignità? Senza mai agitarti? Non sei mai nervoso? Oppure sei a volte agitato, arrabbiato, nervoso, teso? Hai sempre vittoria sul peccato o cadi? Sai uno dei motivi principali per cui non abbiamo vera pace e gioia? Perché siamo nervosi? Perché cadiamo nel peccato? E perché abbiamo pensieri e ragionamenti falsi. Siamo pieni di ragionamenti falsi e viviamo in base a questi ragionamenti. Non sto parlando di un pensiero che passa la testa. Sto parlando di cose che abbiamo creduto, il modo che vediamo la vita da anni. Avendo pensieri falsi, avendo ragionamenti falsi, il modo di vedere la vita, i rapporti, le situazioni, falso, questo ci porta a peccare. Questo è uno dei nostri nemici peggiori. Ci fa molto più danno di tutto quello di fuori che può succederci. Ci tiene lontano da Dio, ci fa avere una vita che porta poco frutto, danneggia i nostri rapporti, ci fa non avere la vera pace. I nostri ragionamenti, giusti o falsi che siano, determinano come viviamo. Pensate a questo. Noi viviamo in base a come vediamo la vita. Se io sono convinto, se io credo che una certa cosa non mi porterà a beneficio, per quanto gli altri possano insistere che devo fare quella cosa, ogni tanto lo faccio per accontentare loro. Ma non lo farò mai di cuore, perché io penso, sono convinto, il mio ragionamento è che non mi serve, non vale la pena. Se invece sono convintissimo che qualcosa ne vale la pena, a grande costo, a sacrifici, io farò quella cosa. Perché credo quello che sia vero o no, non è il punto. I nostri pensieri, i nostri ragionamenti determinano come pensiamo. Se io credo che importa tantissimo quello che gli altri pensano di me, il mio comportamento sarà molto in base a quello che farà loro non vedermi male o farli vedermi bene. Se io ho ragionamenti che sono veri, avrò una vita piena dello frutto dello Spirito. Avrò una vita piena di frutti di giustizia. Se invece sono pieni di ragionamenti falsi, non li riconosco, eh? A me sembrano veri, è così secondo me, ma possono essere falsi. Questi ragionamenti mi ostacoleranno a veramente camminare con Dio tutti i giorni, mi ostacoleranno a avere frutto dello Spirito, mi faranno cadere ripetutamente nel peccato. Allora, è importante capire che Dio permette a Satana di mettere i falsi pensieri nella testa. Dio permette a Satana, in un certo senso, libero accesso alla nostra mente. Pensieri che tu hai non sono sempre da te. Però, ed è un però grandissimo, Dio non ci lascia indifesi, piuttosto Dio ci dà tutto quello che serve per combattere i falsi pensieri che Satana può mettere o che possono arrivare per conto loro. Però, spetta a noi esaminare i nostri pensieri e ragionamenti per riconoscere se sono veri o no. E questo è dove noi spaliamo. Cioè, quanti di voi durante la settimana così costantemente esaminate i vostri pensieri in modo di vedere la vita per vedere se sono veri o no. E la risposta onesta è pochissima. Noi abbiamo ragionamenti e ci aggrappiamo questi ragionamenti e viviamo in base a quei ragionamenti senza fermarsi e vedere se questo è veramente vero o vero. Allora, voglio prima farci capire che Satana mette i pensieri nella testa. Non posso vincere nessun nemico se non so come mi attacca. E vediamo questo dappertutto nella Bibbia. Qual è la prima volta che vediamo Satana mettere i falsi pensieri nella testa di qualcuno? Genesi 3. La donna. Allora, in Genesi 3, Satana parla tramite questo serpente e quello che voglio notare, non voglio esaminare i dettagli, voglio solo notare che lui parla a lei, era audibile, solo nella testa, non cambia, non sappiamo e non importa, però ha messo nella sua testa dei pensieri. La domanda, lei ha valutato ma sono veri questi pensieri o ha solo abbracciato questi pensieri. Questo voglio notare. Ora, Genesi 3, 1 a 6. Ora, il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto. e disse alla donna a Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino. E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morerete. Allora il serpente disse alla donna, voi non morete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. e lei prese il suo frutto, ne mangiò e gli diede anche al suo merito che era con lei ed egli ne mangiò. Satana ha messo dei falsi pensieri nella testa di lei. La domanda, lei ha esaminato questi pensieri? No, non ha. Ma sarà vero? Sarà vero? Non ha valutato. Ha solo cominciato wow, che bello questo albero, che bello essere intelligente come Dio, che lei non ha valutato per niente. Ha abbracciato subito questi pensieri. Allora, saltiamo in avanti al secondo Adamo, come viene chiamato Romani 5, Gesù Cristo. Inizia il suo ministero e viene tentato da Satana. e quello che voglio notare qui non sono le tentazioni in sé. Parlava solo nella testa a voce audibile, non cambia nulla. Il fatto è che anche a Gesù, vivendo come uomo, è stato tentato con Satana che li metteva in testa dei ragionamenti onestamente sono falsi. Ma notate, Gesù ha accolto questi o ha esaminato? Leggo in Matteo 4, 1 al 11. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Ora il tentatore, accostandosi, gli disse, se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo, disse, sta scritto l'uomo non vive di solo pane ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella Santa Città, lo pose sull'orlo del Tempio e gli disse, se sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto e gli darò ordine ai suoi angeli riguardo a te ed essi ti porteranno sulle loro mani perché non urti con i tuoi piedi in alcuna pietra. Gesù gli disse, sta anche scritto non tentare il Signor Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra una monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse, io ti darò tutte queste cose, se prostrandoti a terra mi adori. Allora Gesù gli disse, vattene Satana, perché sta scritto adora il Signor Dio tuo e servi a Lui solo. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servivano. Un commento qui. I pensieri falsi di Satana qui erano subdoli. Non erano menzogne palesi come nel caso di Eva. Erano erano subdoli. Se tu sei figlio di Dio di che queste pietre diventano pane. Cioè non c'è del falso in quello. Attenzione, i ragionamenti non sono palesemente falsi. Possono essere veri in sé. però la cosa che voglio notare qui è che Gesù ha valutato. Ha valutato. Ha esaminato. Ha confrontato i pensieri che Satana gli ha dato. Ma io sono figlio di Dio e ho fame e ho il potere di diventare pane queste pietre. no. Ha valutato insieme alle verità di Dio e ha riconosciuto l'inganno e non ha accolto questi pensieri. Un altro esempio in cui Satana mette i falsi pensieri nella testa di qualcuno è Matteo 16. Gesù fu trasfigurato e sceso aveva portato Giacomo, Giovanni e Pietro scende e poi per la prima volta comincia a spiegare agli apostoli che sarà a Gerusalemme sarà maltrattato ucciso e che risusciterà. Quindi avevano capito tu sei il Cristo e lui comincia a spiegare allora vi spiego quello che succederà a me. Satana mette dei pensieri ragionamenti falsi nella testa di Pietro e Gesù e questi pensieri erano per prima far credere a Pietro eh ma non è buono se lui va dalla croce secondo erano per sfiare Gesù e molto spesso i nostri falsi pensieri ragionamenti danneggiano anche gli altri. Satana aveva messo in testa di Pietro questi pensieri e Dio Gesù sapeva che nonostante che era Pietro che parlava che i pensieri venivano non da Pietro erano ormai i suoi perché li avevano accolti ma Gesù sapeva l'origine di questi pensieri perciò in Matteo 16 21 23 vi leggo da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani dei capi dei sacerdoti e degli iscrivi essere ucciso e risuscitare il terzo giorno allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo Signore Dio te ne liberi questo non ti avverrà mai ma egli voltatosi disse a Pietro vattene via da me Satana tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini Gesù parlava con Pietro e diceva vattene via da me Satana Gesù sapeva che era Satana che aveva messo in testa di Pietro questi pensieri e Pietro come la donna nel giardino non ha valutato ma questo è vero o non è vero sfilava e ma certo il nostro grande Gesù è il Cristo ma mica che il Cristo deve essere ucciso filava umanamente e Pietro si è aggrappato a questi pensieri falsi di Satana ma Pietro aveva senza ricordare le scritture aveva già le verità sufficienti per combattere questi falsi pensieri cosa sapeva Pietro che lì avrebbe bastato e in quello che ho letto Gesù cominciò a dichiarare che era necessario per lui andare a Gerusalemme essere ucciso e risuscitare se Gesù il Cristo dichiara è necessario questo se io ho un filo di pensiero che mi dice che non è necessario se mi fermo a valutare il mio pensiero posso dire ma lui dice che è necessario quindi è necessario se capisco se non capisco non importa Gesù mi dice che è necessario quindi questo pensiero è falso ma Pietro non fece questo esame Pietro non si è fermato per valutare ma sarà vero questo ha solo accettato questo e così è stato usato come strumento di Satana a cercare di sviare Gesù e tu ed io siamo strumenti di Satana con i nostri coniugi e figli e fratelli e sorelle e anche altri quando prendiamo pensieri che non sono veri non li esaminiamo e noi prendiamo posizione in base a quel ragionamento falso siamo strumenti di Satana come Pietro quando abbiamo pensieri falsi non li esaminiamo li abbracciamo piuttosto e li agiamo in base a quei ragionamenti falsi fratelli e sorelli questo è qualcosa di grande è una cosa importantissima quindi ciò che serve è che non crediamo ai nostri pensieri senza aver esaminato i nostri pensieri per vedere se veramente sono veri o no ricordate grazie a Dio grazie a Dio che Dio ci ha liberati dalla schiavitù del peccato ma dobbiamo noi scegliere giorno per giorno di camminare nella luce in Efessini in Efessini 2 trovate con me Efessini capitolo 2 e voglio leggere prima di tutto Efessini 2 da 1 a 4 che riscrive quello che era la nostra condizione prima della salvezza e quello che è tuttora la condizione di tutti quelli che non hanno Cristo seguite mentre leggo notate notate che Satana il principe delle potestà dell'aria guida i pensieri di chi non ha Cristo egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli nei peccati nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo secondo il principe della potestà dell'aria dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne adempendo i desideri della carne e della mente eravamo per natura figli di era come anche gli altri ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati e poi va avanti ci ha vivificato avete visto che seguivamo il principe della potestà dell'aria ovvero Satana ogni persona senza Cristo non si rende conto ma segue Satana se tu non hai Cristo tu segui Satana lui è così furbo che tu non sai che lo stai seguendo è furbo lui ti mette costantemente i pensieri nella testa e tu li segui perché sembrano veri ma purtroppo anche i credenti possono continuare a seguire i falsi pensieri quando Dio ci salva non siamo più schiavi del peccato non dobbiamo più camminare nelle tenebre ma possiamo quando Dio ci dà comandamenti è possibile non ubbidire ai comandamenti o l'ubbidienza è automatico perché siamo dei robot e i comandamenti sono solo lì oppure servono perché possiamo scegliere a non ubbidire giusto? i comandamenti sono proprio perché senza l'ubbidienza caderemo proprio in quel peccato allora Efesini sempre in Efesini capitolo 4 Paolo andando avanti dichiara capitolo 4 versetto 1 io dunque il prigioniero per il Signore vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione in cui siete stati chiamati Dio ci comanda ci esorta a camminare in modo degno della nostra vocazione che vuol dire non più secondo i pensieri falsi che ci guidavano prima ma adesso secondo la verità il fatto che ci comanda a camminare così vuol dire che è possibilissimo che non camminiamo così giusto? cioè valutate se devi comandarmi a camminare in un certo modo vuol dire che posso anche non camminare in quel modo è una delle cose più di tante altre cose che determina come camminiamo e se camminiamo secondo la verità o secondo ragionamenti e pensieri falsi questo se in un certo senso i nostri pensieri i nostri ragionamenti sono la cartina che seguiamo giorno per giorno e se è una cartina falsa camminiamo nella via sbagliata se noi crediamo qualcosa di falso vivremo per quello e ci porterà dove non vorremmo andare se riconosciamo i nostri ragionamenti ah questo è falso allora siamo liberati da quel ragionamento perché la luce distrugge allora riassumendo dobbiamo capire Satana può mettere i pensieri falsi nella testa lo fa costantemente però grazie a Dio non dobbiamo essere schiavi a quei pensieri ragionamenti abbiamo da Dio i mezzi per combattere e distruggere i ragionamenti falsi ma dobbiamo combattere in Genesi 3 la donna non ha combattuto in Matteo 16 Pietro non ha combattuto e purtroppo spesso nella mia vita e nella tua vita non abbiamo combattuto consideriamo consideriamo considerando quanto male i falsi pensieri e giornalmente ci fanno e quanto male ci fanno è fondamentale è fondamentale che li combattiamo però c'è un problema c'è un ostacolo cos'è che più qualunque altra cosa ci ostacola da combattere i nostri falsi pensieri qual è l'ostacolo più grande che mi rende difficile combattere i miei ragionamenti falsi non li riconosco non li riconosco non è che questo è falso ma ci credo comunque no mi sembra vero la maggioranza di noi metteremo mano su fuoco che questo ragionamento è vero ma no non è vero no è vero è vero ci crediamo fondamentale in modo forte quindi se noi accettiamo i ragionamenti che ci arrivano e che a volte abbiamo da decenni attenzione senza valutarli saremo pieni di ragionamenti cioè non solo un nuovo pensiero cose che ci ha controllato da anni per noi che siamo più vecchi 30 40 50 anni ci aggrappiamo a ragionamenti in modo di vedere la vita e guardate è così portiamo avanti per una vita da una vita pensieri falsi quindi è fondamentale importantissimo che esaminiamo i nostri pensieri i nostri ragionamenti quelli nuovi e quelli vecchi per riconoscere se sono veri o falsi se sono beni o mali primo testo non eccesi 521 c'è il comandamento provate ogni cosa ritenete il bene provate solo perché hai pensato una cosa da una vita ma è così no provate quel è così provate quel ragionamento è veramente così per me sembra così per me certo è così è così lo so da anni che è così no aspetta ci penso da anni ma non vuol dire che è così un brano molto importante che come chiese conosciamo bene secondo Cerenzi 10 3 a 6 ma oggi voglio andare oltre a quel brano però voglio ripassare quel brano questo brano parla specificamente dei nostri ragionamenti falsi e come dobbiamo combatterli spiega come seguite mentre leggo secondo Cerenzi 10 da 3 a 6 infatti anche se camminiamo nella carne non guareggiamo secondo la carne perché le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti in Dio a distruggere le fortezze distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbedienza di Cristo e siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza quando la vostra obbedienza sarà perfetta prima di tutto questo brano dichiara che viviamo nella carne allora la carne nella Bibbia viene usata in tanti modi questo non vuol dire che viviamo nel peccato però vuol dire che viviamo in questo corpo di carne che è capace a peccare quando saremo con Cristo con un corpo glorificato non saremo più capaci a peccare quindi noi camminiamo nella carne siamo ben capaci a peccare siamo ben capaci ad avere pensieri falsi prima cosa da notare infatti finché siamo sulla terra avremo falsi pensieri che ci arriveranno quindi la nostra guerra durerà finché siamo in terra in questo mondo dobbiamo combattere ma non dobbiamo guerreggiare secondo la carne non dobbiamo usare i mezzi carnali per combattere i falsi pensieri dobbiamo usare le armi spirituali che Dio ci ha dato che sono potenti in Dio a vincere le battaglie contro questi falsi ragionamenti e notate quanto è duro il comandamento dice che dobbiamo distruggere le fortezze e ragionamenti e altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio come si usa la parola fortezza parlando in termini militari se tu vai ad attaccare una città con un palazzo è normale un discorso ma se vai ad attaccare una fortezza è durissimo è durissimo attaccare una fortezza e questo versetto ci parla di falsi pensieri quelli soprattutto che li abbiamo da tempo che sono fortezze di menzogne dentro di noi sono fortezze li crediamo li crediamo controllano come vedo tutto ma dobbiamo distruggere queste fortezze distruggere questi ragionamenti e notate è ogni cosa che si innalza contro si eleva contro la conoscenza di Dio dobbiamo rendere ogni pensiero prigioniero non lasciare i pensieri correre ma prendere ogni pensiero che abbiamo prigioniero a Gesù Cristo cosa vuol dire quando dice che un ragionamento si alza contro la conoscenza di Dio questo è importante per esempio vi do un esempio se io sto affrontando una prova una difficoltà ed io valuto quella prova con verità vedo quello che mi è chiesto vedo quello che serve riconosco che io non ho le capacità non ho il tempo non ho i soldi non ho le capacità dipende dalla situazione ma se io non guardo a Dio guardo alla realtà guardo le mie capacità i miei mezzi e faccio i calcoli non ce la faccio e così non come faccio come faccio sono schiacciato questo falso ragionamento falso perché è falso è falso perché ho escluso Dio ho escluso Dio non c'è Dio nei miei calcoli non c'è Dio perciò è falso e questa cosa mi fa non conoscere Dio mi ostacola conoscere la pace di Dio mi ostacola conoscere la presenza di Dio mi ostacola conoscere la potenza di Dio nella mia debolezza mi ostacola conoscere la fedeltà di Dio mi ostacola conoscere e riposarmi nelle promesse di Dio il mio ragionamento non ce la faccio quel ragionamento mi ostacola a conoscere Dio di più oppure se io ho un ragionamento che quel peccato essere visto bene dagli uomini dagli altri mi sorriscerà il cuore e così io mi comporto mi vesto mi parlo agisco in modo di guadagnare la loro approvazione perché io credo il ragionamento falso che quello mi farà star bene che è una menzogna non è un vero bene e non è in duratura e mi allontana da Dio quel falso ragionamento si eleva contro la conoscenza che solo Dio può soddisfare il mio cuore quindi credendo ah non voglio che mi vedano male non so come parlare bene quando io dico ma io non sono bravo a parlare cosa sto dicendo non voglio essere visto male non voglio dire una cosa non pensato bene non per non sbagliare ma per come loro potrebbero vedermi perché io credo che se mi vedono bene e non mi vedono male allora starò bene questa è una menzogna io starò bene quando sono legato dimorando in Cristo allora avrò la pace allora avrò il frutto e lo spirito avrò la pace e la gioia non perché loro mi vedano bene ogni falso ragionamento ci ostacola in qualche modo da veramente conoscere Dio più a fondo e perciò dobbiamo usare le armi che abbiamo da Dio le armi che sono potenti da distruggere le fortezze dei nostri ragionamenti falsi ma in pratica come posso fare questo come si combatte un ragionamento falso esiste solo un modo ma è un modo che funziona dobbiamo combattere pensieri falsi con la verità di Dio è la verità che distrugge un pensiero falso però possiamo combattere i nostri falsi ragionamenti i falsi pensieri che a noi sembrano veri attenzione a noi sembrano veri se dico quel pensiero che tu hai è vero? ma sì certo è vero questa è la risposta quello che tu pensi il modo di ragionare è vero? sì questa sarebbe la risposta naturale se posso dire dalla carne che faremo quasi sempre se non ho preso tempo di valutare a me sembra vero e quindi non possiamo combattere falsi ragionamenti se non ci fermiamo a valutare se sono veri o no che di solito non facciamo e perciò la chiave in questo è di imparare o posso dire scegliere ad esaminare i nostri pensieri ma voglio aiutarvi in questo non devo solo credere quel che mi entra per la testa devo fermarmi ma è vero questo e devo valutare allora come capisco che devo esaminare i miei pensieri capisco che devo valutare ogni pensiero per riconoscere quelli falsi ma come posso valutare questo è dove forse non ho spiegato bene negli anni come posso in pratica riuscire a valutare ogni pensiero prego che con l'aiuto di Dio possiamo capire la risposta in modo così chiaro che possiamo d'ora in poi esaminare ogni pensiero la chiave per poter valutare i nostri pensieri e di vedere quale frutto producono in noi che frutto crea in me questo pensiero quando penso quando a questa situazione quando ho questo ragionamento quale frutto produce in me cioè la Bibbia dice che si conosce un albero dal suo frutto Matteo 7 Gesù sta parlando di falsi insegnanti loro insegnano insegnano pensieri insegnano ragionamenti e dal frutto che quei ragionamenti producono si conosce se sono da Dio o no quindi questo insegnamento applica a noi che esaminiamo i nostri pensieri vi leggo Matteo 7 15 a 20 guardatevi dai falsi profetti i quali vengono a voi in veste di pecore ma dentro sono lupi rapaci voi li riconoscerete dai loro frutti si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi così ogni albero buono produce frutti buoni ma l'albero cattivo produce frutti cattivi un albero buono non può dare frutti cattivi né un albero cattivo dare frutti buoni ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco voi dunque li riconoscerete dai loro frutti allora quali sono i frutti dei tuoi pensieri e ragionamenti prima di arrivare trovate con me Giacomo 3 Giacomo 3 voglio leggere i nuovi versetti in Giacomo capitolo 3 c'è un altro brano che parla di buon frutto e noi vogliamo imparare a riconoscere i frutti dei nostri ragionamenti quindi Giacomo 3 leggo da 10 a 18 e questo arriva a parlare di sapienza terrena e il suo frutto è sapienza dall'alto sapienza da Dio pensieri da Dio quindi anche questo applica proprio a questo discorso e qual è il frutto quando i pensieri sono da Dio dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione fratelli miei le cose non devono andare così la fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro può fratelli miei un fico produrre olive o una vite fichi così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce chi è sabio intelligente fra voi mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuertude di sapienza ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spiriti di contesa non vantatevi e non mentite contro la verità questo non è la sapienza che riscende dall'alto ma è terrena animale è diabolica dove infatti c'è invidia e contesa lì c'è turbamento e ogni sorta di opere malvagie ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura poi pacifica mite dolcile piena di misericordia e di frutti buoni senza parzialità e senza ipocresia ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace possiamo paragonare la sapienza con i ragionamenti sono fratelli il frutto della sapienza che viene dall'alto ovvero da Dio e noi potremmo dire i frutti dei ragionamenti che vengono da Dio qual è? è una vita pura pacifica mite docile piena di misericordia e buoni frutti i ragionamenti giusti e buoni sono senza parzialità e sempre opocresia producono pace in contrasto la sapienza terrena e potremmo dire i ragionamenti terreni producono un frutto del tutto diverso produce invidia contese turbamento anziché pace e ogni sorta di opere malvagie false accuse cattiveria autocomisurazione anziché amore per gli altri autocomisurazione che cos'è? e amare gli altri e pensare a loro e focalizzare su te stesso guarda come mi tratta povero me povero me povero me se tu fossi sulla strada dove c'era il buon samaritano dopo è passato tu passi pensando a te stesso e neanche notte chi sta male perché non sai amare allora capire possiamo vedere i frutti nella nostra vita e così possiamo dire ok quali sono i miei pensieri che sono legati a questi frutti e se i frutti sono marci dico io ho pensieri falsi ma quali sono? non lo so ancora ma io vedo il frutto capite quello che sto dicendo? quando vedo frutto spagliato frutto brutto io posso dire io so che io ho pensieri falsi ma quali sono? non so ancora ma guardi il frutto allora vado in cerca e se io vado in cerca sapendo che ci sono pensieri falsi signori io ho armi potenti da distruggere questi falsi pensieri io so che ci sono li troverò ben presto quindi quando sei turbato anziché hai pace quando sei scoraggiato quando hai timore quando sei arrabbiato quando ti senti ferito quando sei turbato che non è giusto quando c'è qualche brutto frutto nella tua vita come tutti questi esempi che non rispecchia Gesù Cristo è da prendere per scontato o dei falsi ragionamenti quando riconosci cioè che non hai pace che non sei tranquillo che non sei pieno di amore di benignità verso gli altri perché sei concentrato su te stesso quando hai paura è quasi sicuro che hai pensieri spagliati in qualche modo hai un ragionamento falso che sta dentro di te questo è chiaro dal frutto che produce a quel punto tu devi esaminare i tuoi pensieri per riconoscere quello che è falso vi dico una cosa importante da capire per quanto riguarda avere pensieri falsi io tu io posso avere un pensiero che è 100% vero ma è falso e voglio ripetere quello ho già detto prima nel culto io posso avere che in sé è 100% vero ma in verità è falso perché esclude le verità di Dio io voglio raccontarvi un pensiero falso che io ho avuto l'altro ieri venerdì e i dettagli di questo pensiero che ho avuto erano 100% veri i dettagli quello che ho pensato era vero ma il mio pensiero era falso allora io devo raccontarvi un po' di questo periodo e non lo dico per auto misurazioni o niente solo per capire da dove è venuto questo pensiero questo è un periodo estremamente intenso ci sono così tante persone da curare che è impossibile parlare con tutti certamente ringrazio Dio per questo sono tantissimi porti aperte al ministero è una cosa meravigliosa è un dono da Dio ma fisicamente sono da settimane stanchissimo sto mancando sonno perché siamo su tardissimo sto arrivando a forti mal di testa giorno dopo giorno per mancanza di sonno per l'intensità cioè non mi sto lamentando ma questa è la spiegazione della situazione in cui stiamo vivendo nessun problema però fisicamente sono distrutto distrutto allora l'altro ieri mentre ero stanchissimo è venuto su un'altra situazione di una situazione di curare e mi è venuto il pensiero ma io sono stanco cento per cento vero non si vede nessuna serata dove potrei andare a letto prima tutte le serate sono pieni non c'è una che io sull'orizzonte vedo e certamente non dormo tardi vero questo è anche cento per cento vero questa è la realtà della mia vita sono stanco sto male non c'è tempo di riprendermi tutto vero e quindi pensando a queste verità ho cominciato ad essere abbattuto scoraggiato sperimentalmente fiacco non avere gioia allora io non ho riconosciuto i pensieri ma ho imparato da anni a guardare i frutti ho detto io non ho gioia io sono aggravato io non ho pace e quindi era come una bandiera rossa ding 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 io ho pensieri falsi cioè io non avevo visto i pensieri falsi ho visto il frutto ho imparato se io sono turbato c'è qualcosa di falso nei miei pensieri qui mi sono fermato allora signore cosa c'è di falso ho detto questi questi sentimenti di essere aggravato vengono dal fatto che è un momento che sono schiacciato quello è vero ma cosa c'è di falso allora e quasi subito letteralmente nel giro di pochi minuti ha detto ah ti sto escludendo ti sto escludendo io ti ho escluso oh signore non sto vedendo il tuo aiuto non sto vedendo la tua sovrano la sovrana guida che gestisce tutto perfettamente non sto vedendo che tu dimostri la tua potenza la mia debolezza non sto pensando le tue promesse signore e perciò visto che Dio c'è visto che ci sono le meravigliose fedeli promesse di Dio il mio pensiero che escludevo queste cose non volontariamente ma non le comprendevo nei miei pensieri il mio era un pensiero falsissimo i dettagli erano veri ma il mio pensiero era da Satana era per scoraggiarmi era falsissimo ed ero scoraggiato e perciò ho confessato il mio peccato signore ho peccato contro te ti ho escluso ti ho schiacciato dei miei pensieri ho pensato solo alle situazioni che sto davanti e le mie poche forze o meglio la mia debolezza che non e tu non c'entravi perdonami la Bibbia dice lo stolto dice in cuore suo non c'è Dio ed io stavo ragionando come se tu non ci fossi perdonami signore perdonami e sapete una cosa per mezzo del nostro grande signore Gesù Cristo Dio mi ha perdonato e quel scoraggiamento si è trasformato in gioia e in pace avete capito allora quello che ho fatto quello che dobbiamo fare costantemente ho visto perché so guardare io non ho gioia non ho pace non sono pieno di benignità o qualunque frutto brutto io vedo frutto brutto bisogna esaminare la tua condizione in quell'istante e vedere se tu stai trabocando con il frutto dello spirito o no e se no hai pensieri sbagliati dobbiamo non solo credere quello che sta nella testa forse da 30 anni forse da 3 minuti dobbiamo vedere che frutto produce in me che frutto mi agita mi turba mi dà paura mi fa pensare solo a me mi fa ringraziare Dio o non ringraziare Dio mi fa avere pace o mi fa essere senza la pace mi fa avere gioia o mi fa essere duro Galiti 5 22 parla del frutto dello spirito che avremo quando avremo pensieri veri che meraviglioso il frutto dello spirito è amore gioia pace pazienza gentilezza bontà fede mansuitudine autocontrollo ragionamenti veri e giusti producono questi frutti non producono frutti negativi ragionamenti falsi producono frutti brutti allora domanda vi faccio un altro esempio supponiamo che qualcuno mi tratta male cioè pecca contro di me ok con cattiveria mi ferisce mi danneggia quale sarebbe avere ragionamenti giusti un fratello una sorella pecca contro di me mi ferisce non era dovuto a qualche peccato mio solo a cattiveria da parte di lei e di lui quale sarebbe un ragionamento vero in quel momento che produrrebbe frutti di amore gioia pace pazienza gentilezza bontà fede manzitudine alto controllo ok se i miei pensieri a riguardo mi fanno stare male a focalizzare su me stesso per essere scoraggiato o arrabbiato o amaraggiato o abbattuto non è giusto che mi fa così così vi garantisco che ho pensieri falsi vi garantisco il frutto lo dimostra vi faccio un esempio di quello che sarebbe un pensiero vero un ragionamento vero in questo caso arriva questa botta di essere maltrattato ed io prima di tutto signore ti ringrazio che tu sei con me in questa prova e ti ringrazio che tu sei in controllo di questa situazione e tu hai gestito le cose perché mi serve quella prova grazie che tu mi hai protetto da tanti altri casi ma quello mi serve perché tu sei in controllo ti ringrazio che non permetti mai la prova spagliata chiedo ti chiedo Dio di aiutarmi a trarre il massimo beneficio di questa prova perché sono le prove che ci crescono e io voglio crescere più in Cristo quindi serviti di questa prova nella mia vita Padre grazie che la tua pace superi la prova quindi mi aggrappo alla pace che Gesù Cristo mi dà anche in questa prova è la pace infinitamente più grande della prova e non mi lascerai e non mi abbandonerai oh signore grazie e grazie che tu ti glorifichi e noi quando guardiamo a tenere le prove quindi fortifichami che posso guardarti e signore glorificati in questa prova e Padre supponiamo che sia un credente che ha peccato contro di me signore voglio che il rapporto sia ristabolito aiutami a reagire con amore e verità che il nostro rapporto possa essere ristabolito Matteo 18 grazie che non mi lasci grazie che Gesù Cristo comprende pienamente la mia prova perché se io sono stato trattato in modo ingiusto quanto di più Gesù eppure senza peccare lui è un buon sommersacerdote che può simpatizzare con me anche in questa prova questo è un esempio di avere ragionamenti veri che riguardano le nostre prove e le difficoltà allora domanda nel caso di avere frutti brutti a cosa sto focalizzando che non ho spiegato a fondo ma conosciamo tutti l'esperienza personale succede qualcosa di brutto quando c'è brutto frutto a cosa stiamo focalizzando la prova l'ingiustizia il peso quando abbiamo ragionamenti veri e giusti del mio complessivo dei miei pensieri che riguardano quelle situazioni la cosa che è successo è la piccola parte la parte di Dio è la grandissima parte questo è avere ragionamenti pensieri veri e il fatto è che molto spesso da una vita abbiamo modi di vedere gli avvenimenti della vita abbiamo modi di reagire a cose brutte e pesanti dove quasi escludiamo Dio se non al massimo grido aiutami non pensando a lui solo gridando aiuto questo Dio lontano e per tanti di noi questo è un'abitudine e come viviamo e come non è una cosa che è successa una volta è come viviamo giorno per giorno per giorno che vuol dire abbiamo fortezze fortezze di modi di ragionare e quando succedono cose che succedono costantemente corriamo in quelle fortezze di menzogne di ragionamenti false che si elevano contro la conoscenza di Dio e quindi quello che prego che abbiamo capito oggi Satara mette i falsi pensieri nella nostra testa lui può fare quello ma noi abbiamo i mezzi per combattere quei pensieri ma dobbiamo esaminare i nostri pensieri e se tu hai un pensiero uno ti parla uno ti parla di una di una situazione magari è una riprensione ti fa star male questo non hai pace non hai gioia non sei grato a Dio hai ragionamenti falsi il frutto lo dimostra e quindi io trovo questo una verità meravigliosa che in Cristo abbiamo i mezzi per distruggere fortezze ragionamenti e ogni cosa che si eleva contro la conoscenza di Dio in Cristo abbiamo la potenza di rendere ogni pensiero ubbidiente a Cristo che trasformazione fa nelle nostre vite ma dobbiamo esaminare i nostri pensieri e ragionamenti anche se li abbiamo da 40 anni e il modo di esaminarli è di vedere che frutto produce nella mia vita è molto semplice ogni volta che mi trovo agitato senza pace pensieri cattivi qualunque cosa non è giusto qualunque cosa io so ok ho pensieri sbagliati ho pensieri falsi quali sono forse i pensieri in sé sono veri ma sto escludendo Dio che vuol dire che sono falsi perché Dio c'entra oh che Dio ci aiuti ad essere un popolo che esamina ogni cosa prova ogni cosa ritenete il bene preghiamo oh Padre nostro questo è una verità meravigliosa senza Cristo siamo schiavi dei nostri peccati e vuol dire schiavi dei pensieri falsi che vuol dire che si cammina nelle tenebre una vita con brutto frutto che è pesante per noi stessi ma in Cristo possiamo essere liberati dai falsi pensieri possiamo distruggerli per conoscere Dio sempre di più per abbondare nel frutto dello spirito la gioia l'amore la pace la gentilezza l'autocontrollo che è meraviglioso avere una vita piena di frutti di giustizia una vita piena di dolci le mite padre tutte queste una vita piena di pace oh che meraviglioso è alla portata di ogni vero credente e qui padre tu ci hai mostrato come riconoscere i falsi pensieri dal frutto si conosce un albero dal suo frutto e dal frutto che i nostri pensieri ragionamente producono possiamo vedere se sono falsi o veri non è difficile grazie tu ci dai tutto quello che serve per distruggere i falsi ragionamenti che spesso ci hanno danneggiato da anni ma possiamo vederli riconoscerli e distruggerli per riempirci con la verità e camminare nella verità ed io non ho gioia più grande che vedere che i miei figli camminano nella verità mostrici i nostri falsi ragionamenti o meglio dire mostrici frutti brutti che ci possono far capire ah c'è un falso ragionamento lì sotto perché poi diventerà visibile grazie padre che non ci lasci soli che abbiamo in te armi potenti da distruggere ogni falso pensiero aiutaci a vivere così aiutaci ad aiutare gli uni e gli altri a vivere così per la tua gloria e per i nostri beni ti prego nel nome di Gesù Cristo Amen grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.